Ciao da Valentina, la prof di LinkedIn. Oggi andiamo a vedere come scrivere il riassunto. Che cos'è il riassunto? Beh, è semplicemente il testo che appare sotto la parte alta del tuo profilo LinkedIn e che dovrebbe contenere alcune informazioni. Io seguo molto l'America e il Canada, cerco sempre di aggiornarmi su quello che stanno facendo perché mentalmente sono più avanti rispetto a noi perché hanno cominciato anche prima e hanno fatto molti test su LinkedIn come gli altri social. E cosa ho capito? Ho capito che americani, canadesi in generale e anche il resto d'Europa utilizza il sommario e il profilo LinkedIn in maniera strategica per comunicare subito, in maniera molto 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 veloce, tutte le informazioni salienti, numero di telefono, email e quello che puoi fare per la persona che leggerà il tuo profilo. Quindi utilizzalo sempre anche per quello. Inserisci la tua email, inserisci i tuoi contatti Skype, inserisci quello che vuoi e l'importante è che siano utili anche per te per entrare in contatto. Bene, questo è tutto e mi raccomando ricorda esagera sempre. Ciao!